È stato presentato il progetto definitivo di riqualificazione delle ex casermette di via Molinari, un immobile che rappresenta la memoria storica di Pordenone, ma che attualmente versa in uno stato di degrado. L'intervento si propone di restituirlo ad un pieno utilizzo, sia da parte delle associazioni d'arma che in esso hanno sede, sia dell'intera cittadinanza. Il recupero edilizio conservativo prevede il rifacimento del tetto, la messa in sicurezza antisismica, la riqualificazione di pareti, infissi, pavimenti e l'abbattimento di barriere architettoniche, il tutto nell'ottica dell'efficientamento energetico. Inoltre, il piano terra sarà destinato agli spazi della memoria con la sala delle colonne, alcune aree espositive ed un'area verde negli spazi scoperti. Uno degli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione fin da quando ci siamo insediati è quello di recuperare e sistemare gli immobili di proprietà pubblica, di non lasciarli deperire e decadere. Uno di questi, che ha anche un valore storico importantissimo, sono l'ex casermette o l'ex casermaggio di via Molinari, occupato dalle associazioni comandatistiche d'arma dai paracadutisti. In condizioni ormai pietose abbiamo recuperato, grazie al PNRR dei finanziamenti, verrà completamente remessa a nuovo dal punto di vista energetico, dal punto di vista anche della fruibilità e della funzionalità degli spazi. Al termine dei lavori ritorneranno ovviamente questa associazione, ma gli spazi che verranno recuperati saranno anche quelli attualmente inutilizzabili, che quindi nel corso del tempo potranno trovare una destinazione adeguata ai bisogni della città. Penso ad aule studio, piuttosto che biblioteche, a luoghi culturali, a quello di cui ci sarà bisogno, anche sale espositive. È un impegno, ripeto, costante e tra l'altro questo rientra nella sistemazione integrale del quadrante di via Molinari. Si è parlato troppo e male, a mio avviso, nel rifacimento dell'ex fiera, che diventare invece bellissimo, un polo sportivo e di aggregazione per i giovani immerso del verde e circondato da alberi. Accanto ci sarà anche la nuova caserma della polizia locale nell'ex provitorato abbandonato, ci sarà la riqualificazione di via Matteotti e anche l'ex caserma di via Molinari. Quindi, come dire, riprendere in mano non solamente un edificio, ma un intero quartiere. Questo intervento ovviamente prevede il trasloco delle associazioni che attualmente occupano l'edificio delle casermette, che è previsto il trasloco entro il corrente mese di settembre, associazioni che si trasferiranno presso la Casa della Fanciulla, nuova sede delle associazioni, in via Grado. Quindi, con il completamento dell'intervento di riqualificazione delle casermette, poi le stesse associazioni rientreranno in possesso in un ambiente naturalmente migliore, più comodo, più funzionale per quanto riguarda la vita associativa, esposativa e commemorativa. Andiamo a riqualificare un edificio importante per Pordenone, che sta a cuore a molti cittadini e che in realtà è identitario per la nostra storia, sia per quello che è accaduto in quel luogo, sia anche perché è nato ed è stato sede delle Forze Armate e attualmente delle associazioni d'arma. Un luogo che vorremmo possa essere di memoria complessiva per le giovani generazioni. Quindi, accanto ai luoghi della memoria, alla Sala delle Colonne, ci saranno degli spazi espositivi dove la storia delle associazioni d'arma di Pordenone potrà essere tramandata e fruibile anche per le nuove generazioni.